buongiorno signore e signori ragazze e ragazzi mi chiamo marcello secco e faccio questi video per passione e quindi vi chiedo sulle moto insomma vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così sarete costantemente aggiornati perché i video li pubblico giornalmente oggi voglio parlarvi di moto morini 6,5 del 2022 il motore è un bicilindico in linea fronte marcia con distribuzione bialbero di 649 cm3 e una potenza massima di 60 cavalli 8.250 giri al minuto la coppia invece è di 54 newton metro a 7.000 giri al minuto la ciclistica come visibile in immagine è formato da una forcella usd kajaba con stei da 43 mm totalmente regolabile nel precarico registro dauli con estensione e compressione con escursione di 120 mm mentre il forcellone è lega leggera con mono laterale della kajaba regolabile con escursione di 120 mm impianto frenante a doppio pistoncino l'anteriore 298 mm con pinze flottante a doppio pistoncino disco posteriore da 255 mm con pinza a doppio pistoncino abs disattivabile il faro rotondo è a led il cruscotto digitale a colori da 5 pollici il serbatoio da 15 litri con il telaio tralicio in tubi d'acciaio i cerchi sono in lega leggera davanti da 18 pollici e dietro anche dietro quindi sempre 18 pollici il peso della moto a secco di 200 kg quindi una moto molto interessante come potete vedere che avrà penso successo perché è una bella linea ed è anche una linea piuttosto moderna bene quindi se vi è piaciuto mettete un like e dislike se non vi è piaciuto come ho già detto prima iscrivetevi al canale così saremo sempre di più e attivate la campanella in modo da essere costantemente aggiornati qui sotto i vostri commenti veramente molto graditi ciao a tutti buona giornata